Zanone è nato sul cuore per me, ha fatto valere tutti i suoi due mesi, ha fatto valere solidamente Avenatti che di testa ha schiacciato il minardo a gas, dunque Ternana in vantaggio al 37esimo minuto di gioco del primo tempo con Avenatti. Il senso è un gioco di ragazzi per Avenatti e fare valere tutti i suoi centimetri, spettare piave di tutto di testa e da due passi in finale a gas.